Ciao a tutti e benvenuti sul canale di infodrones.it In questo video vi mostriamo il Q383 Spaceship, gentilmente offerto da Gearbest Il piccolo esacottero viene venduto in tre versioni, quella classica, quella wifi e quella con camera HD 720p Nella confezione originale troviamo subito il nostro drone La cui caratteristica principale è sicuramente la gabbia in plastica che protegge il drone ed evita il deterioramento di motori ed eliche Il Q383 pesa meno di 100 grammi ed è grande circa 18 cm E' dotato di motori brushed ed di un giroscopio a 6 assi La batteria da 3,7V e 500mAh consente un volo di circa 5 minuti E si ricarica tramite l'apposito caricatore USB che permette l'inserimento di due batterie in contemporanea in circa un'ora e mezza Nella confezione troviamo poi 6 eliche di ricambio, un piccolo cacciavite e un arrezzatore per cellulari da inserire sul radiocomando La radio a 4 canali trasmette a 2,4 GHz e permette un range di controllo di circa 50 metri Per alimentarla servono 6 pile stilo che non sono incluse E' possibile regolare la potenza del nostro esacotter in 4 modalità 40, 60, 80 e 100% E' inoltre possibile trimmare il modello per renderlo più stabile in hovering ed eseguire evoluzioni a 360 gradi Troviamo queste e altre informazioni sul manuale delle istruzioni in lingua inglese e cinesi E nell'app da scaricare per iOS e Android che si chiama WL Toys E adesso andiamo a vedere come si comporta lo spaceship nella nostra prova di volo Il Q383 è un drone molto leggero e per questo patisce particolarmente il vento E' indicato ad un pubblico molto giovane ed è consigliabile utilizzarlo in ambienti indoor Dove il nostro guscio eviterà i danni accidentali più ricorrenti L'evoluzione a 360 gradi sono molto divertenti e le qualità di foto e video rientrano nella media di droni giocattolo Tramite l'applicazione è possibile pilotare il nostro modello in FPV, scattare foto e video Il range di controllo con il wifi diminuisce ma si riesce comunque a divertirsi nei 5 minuti a nostra disposizione Nella descrizione trovi l'articolo completo e il link per l'acquisto Il video è finito, se ti è piaciuto lascia un like, continua a seguirci ed iscriviti al canale Ciao